E' la ragione per la quale noi abbiamo varato questo decreto, la cui norma probabilmente principale riguarda proprio le pene e i reati legati alla tratta di esseri umani. Il decreto prevede un aumento delle pene per il traffico di migranti, ma prevede soprattutto l'introduzione di una nuova fattispecie di reato relativa alla morte o alle lesioni gravi in conseguenza del traffico di clandestini, che prevede per questi criminali una pena di essere puniti con una pena fino a 30 anni di reclusione, nel caso specifico di Cutro, nel caso in cui muoiano delle persone durante una di queste traversate. E' un elemento che io considero molto importante, il reato verrà perseguito dall'Italia anche se commesso al di fuori dei confini nazionali. Cioè per noi, chi si rende responsabile di lesioni gravi o di morte, mentre organizza la tratta degli esseri umani, è perseguibile con un reato che noi consideriamo reato universale. Significa non colpire solamente quei trafficanti che noi troviamo sulle barche, significa colpire anche i trafficanti che ci sono dietro. E per me questo è un elemento molto importante, perché cambia completamente l'approccio del governo italiano rispetto a quello che abbiamo visto negli ultimi anni. Grazie.